Ciao sognatori, come state? Spero molto bene. Io sono Elle. Oggi nuova videochiacchiere. Mi andavo a registrare videochiacchi. Vado subitissimamente a salutare le persone. Sono parecchie, quindi... Ok. Mando un bacione a... Buongiorno a tutti. Ci ha saltato qualcuno. Saluterò nel prossimo videochiacchiere, ma ne sono veramente tanti, quindi un po' è un po'. Dunque... Oggi... Questo sarà un video molto 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 semplice. Io ce l'ho detto che vogliavi o voglia di fare un videochiacchiere, quindi... E... Farò tapping su vari oggetti. Siccome il tapping mi viene sempre richiesto... In questo video, in questo momento, le luci sono a mio sfavore, peggio del solito. Cosa è? Ecco qui. Allora... Da notare che... Non c'ho più il vasetto, il solito, per appoggiare il microfono e ora vi dico pure il perché. E quindi ora il microfono ce l'ho appoggiato nella mia tazzina dei pastelli gialli. Anzi, ora... Ora vi faccio vedere una cosa. Dovete guardare quanto è figa la mia base. Cioè... Ve la ricordate? Questa praticamente era... Come si chiama? Lo feci vedere già in un videochiacchiere. No, zero. In un video tapping. Sì. Stavo distratta perché notavo che tenendole in mano il microfono riesco a fare meglio il binaura. Molto bene. Mi sa che mi conviene tenerlo così. Però non posso fare tapping, voi? No, giovane. Allora... Magari sarà per una prossima volta. Ditemelo. Ho dovuto togliere i pastelli gialli che avevo. Per metterci dentro il microfono. E qua muocio tutti i pastelli. Perché gialli? Perché in base al colore del vasetto ho i pastelli dentro. Ad esempio. Se il vasetto è giallo, ho messo le tinte gialle solo di questa marca che sono i Prismacolor. Queste sono le tinte gialle di questa marca. Perché poi ne ho tantissime altre. Vedete? E... Ne ho tantissime. Ho tante altre... Tante altre vasetti. Allora... Anzi farò proprio tapping sui vasetti. Guarda che ci penso. Però... Le tinte... Le tinte... Le tinte nere invece. Nere e grigio. Ce le ho qui. Nel vasetto. Dove ho disegnato Pichan perché sono fatte da me. E qui sono tutte le tinte. E qui sono tutte le tinte. Nere e grigio. Vi piace il tapping sul vetro? A me non molto. Però... È gradibile. Tinte... Tint視! E per contrastare... ed escupere a... Poi ho quella con le tinte... rosa... il fiolo, il bianco, di Hello Kitty, questa mi piace un casino, ma anche quella di Pijan, le mie preferite sono questa di Pikachu, quella di Pijan e un'altra che vi faccio vedere ora, ho le ditte blu in questa, cioè questa secondo me è la più bella, ed è anche la prima che fesi, ed è l'una di Sailor Moon, sono una grande appassionata di anime, c'è poco da fare, ma chi mi segue quello fa? no, comunque il tapping sul vidro non mi piace, quindi evito, comunque vediamo un po' di raccimolare qualche accento, questa, no, questo è il tapping più decente, il microfono sta morendo molto bene, scarico, questa è la candela, che ho comprato un po' la settimana scorsa, mi ricordo, e dal limone, è nuovissimo, ancora un'aperta, che poi ho preso anche un'altra sandalo, che ho messo in questo vasetto, che era il vasetto dove mettevo sempre il microfono, e, cioè, facendo lo stesso odore, o cambia di poco, io non lo so, eppure le fragranze sono nettamente diverse, secondo me, mi hanno fatto il pacco, per il suono è bello, per il suono è bello, ed anche il suono della plasma, io non lo so, eppure le fragranze sono pianistiche ma, eppure le fragranze sono più fantastiche, io credevo di averne passate tutte quando registro video dai cani ai fuochi d'artificio al camion di limondizia che passa e fa un rumore incredibile ma mi è successa una cosa che è il blackout non sto scherzando cioè voi non potete immaginare forse se avete visto il mio proverso potete immaginare però cioè il blackout questa resterà proprio nelle cose cioè che mi segneranno proprio mentre stavo registrando stavo quasi alla fine del video mentre stavo registrando si spegne tutto ovviamente non si spegne la videocamera perché va a pil ma si spengono le luci io non so, io ho il telefono accanto a me quindi non potevo farmi luce con nulla immaginate immaginate cose poco belle ah si ho cambiato con lana vi ricordate in un video chiacchiere di tempo fa dissi che volevo cambiare col ciondolo e me l'hanno regalato per natale io prima avevo la farfallina brillantinata e come ciondolo e ora invece ho l'albero della vita che è bellissimo è troppo bello e invece dei frutti ho i brillantini non so, è stupendo mi piace un sacco sono stata molto contenta in realtà ah questo è sempre a vidrum questa è pitturia pitturia pittura a olio pittura 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 A presto. Grazie a tutti. Mamma mia, profuma tantissimo. Il 27 di questo mese è il mio romastico, il 27 gennaio. Sto cercando di prendere vari oggetti di diverso materiale. Ho preso un vetro, un plastico e un cartone. Il cartone è molto prezioso in realtà. Il rosolo di carta igienica. Perché se non faccio le tresciate, non sono io. Questo l'avevi già vedere molto tempo fa in spagnolo. Non ricordo se l'ho mai fatto vedere un video in Italia, non posso dire. E ci fece il disegnino di CL, quanto mai vicino. Però secondo me è venuto molto carino. Non mi chiedete com'è che mi viene l'idea di metterlo sul rotolo di carta igienica. Però è carino. Non so, magari l'idea può piacere anche a voi. E così date un'utilità ai rotoli di carta igienica finiti. Non so, magari l'idea può piacere anche a voi. Non so, magari l'idea può piacere anche. E l'ultimo oggetto su cui faccio tapping sarà lui, io lo adoro. Sapete cos'è? Sicuramente sì, l'avrete visto sicuro perché è molto famoso. Si chiama Manikiniko, ed è un oggetto giapponese, è un portafortuna giapponese. Sapete che io amo il giappone e tutto ciò che ha a fare con il giappone. E questo Manikiniko significa l'invito del gatto, o comunque il gatto che invita. Perché fa questo gesto, vedevo la zappa. E invita la sorte. È troppo bello, secondo me. Uno dei portafortuna è più belli. E poi rilassante, guarda la zampina. Ce ne sono di vari colori. Io l'ho preso qua a Napoli. E l'ho trovato solo color oro. In realtà io lo volevo bianco, però non lo vendevano. Lo vendevano solo così. Ed ogni colore ha un significato diverso. E la trovo una cosa molto interessante questa. E ce ne sono di vari colori. E poi esteticamente è troppo carino. E poi non lo vendevano solo. E poi non lo vendevano solo. sognatori questo video può finire qui i miei video sono sempre una sorpresa perché mentre li faccio talmente che sono spontanei ma talmente che sono spontanei che non so se sono venuti bene o meno e forse questa è una cosa che sapete non lo so e per me è sempre una sorpresa perché devo vedere in fase di editing se sono venuti bene se è il caso di pubblicarli specialmente quando sono registrati tardi saranno le due e mezza di notte ma di più saranno forse quasi le tre ma l'unico momento di silenzio e nemmeno quindi i miei video sono sempre un programma ma credo che vada bene così io vi mando un bacio anche il mio amico vi saluta e ci vediamo al prossimo video domani bai 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 e ci vediamo a tutti i miei video